E' un lungo tour quello che sta portando il capo della polizia Franco Gabrielli nelle questure italiane. Questa mattina Gabrielli, anche direttore generale della pubblica sicurezza, era a Chieti dove ha incontrato il questore Ruggero Borsacchiello. Alla visita nel palazzo di piazza Umberto I, durata più di un'ora e mezza, era presente anche il nuovo prefetto di Chieti, Giacomo Barbato. La presenza del capo della polizia qui a Chieti, alla questura di Chieti, poi ho avuto il piacere come prefetto di ospitarlo nei saloni di rappresentanza della prefettura, rientra nel giro che il capo della polizia ha alle questure che ha iniziato non appena insediato, tanto è vero che questa è la 97esima questura e ora sta correndo per andare a terra, ma anche perché ha un ulteriore impegno al ministero, quindi i tempi assolutamente ristretti. Tutto sommato è una situazione sotto controllo? La situazione sia sotto controllo è evidente, ora il dato, se stiamo al dato statistico, il dato statistico ci dice che i fenomeni sono in linea o addirittura in diminuzione, come dicevo prima al suo collega, ciò però non significa che non bisogna individuare nell'ambito delle risorse, con le risorse che abbiamo delle modalità migliorative anche in termini di fantasia per riuscire, come diceva il prefetto Gabriele, fare di più con meno. Che per termini di fantasia, che mi sembra una bella espressione, cosa intende? Lei dice che le risorse sono quelle, facciamocile bastare, non possiamo prendere altri uomini, non possiamo prendere altri mezzi. Sì, ed è il ragionamento che una persona pratica come il prefetto Gabriele ha fatto ai suoi uomini. Quando c'è un fatto delittuoso, per avere la risposta bisogna lavorarci, quindi bisogna anche avere pazienza, ma soprattutto grande fiducia. Tutte le istituzioni, indipendentemente dal livello, che sia provinciale, che sia territoriale, che sia comunale, indipendentemente dal ruolo, devono fare rete, perché dobbiamo rendere servizio al territorio e il cittadino deve sapere che è il primo attore e quindi deve diventare cittadino attivo e quindi, tornando al ragionamento che si faceva prima, deve cercare anche di collaborare un po' di più in termini di informazione. Lei è qui da poco? Io sono qui da poco più di un mese. Che esperienza fino adesso, come le sembra? Ma, le devo dire la verità, mi trovo assolutamente bene, sono stato accolto veramente a braccia aperta.